Violetta ha un sogno. Voglio che quest'anno sia... sia perfetto. Voglio essere felice. Leone è innamorato. Mi sei mancata. Diego non si arredde. Non ho mai provato per nessuna quello che provo per lei. Gelosia. Non ti sto mentendo, non ho baciato Diego, credimi. E perché lui dice di sì? Sentimento. Vuoi tornare a stare con me? Sì, lo voglio. Emozioni. Guarderò tutto il tempo, quindi... Non pensare a lui adesso. Canta con me. Dove andranno i nuovi amori? Sono stanco. Non ce la faccio più. Dobbiamo lasciarci. Balliamo? Io non ho più niente da fare qua, quindi... me ne vado. Rivivi tutte le emozioni dei primi episodi della seconda stagione di Violetta dal 16 settembre alle 20.10. E scopri le nuove imperdibili puntate da ottobre solo a Disney Channel. Grazie. Grazie. Grazie.